amici di gossip news ben ritrovati io sono nato e questa è una nuovissima pillola di gossip luca onestini potrebbe presto lasciare la casa del grande fratello vip a lanciare l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip e influencer amedeo venza che sui social ha riferito che il vippone sarebbe stato chiamato in confessionale perché alcuni dei suoi valori non sarebbero buoni li fanno gli esami e non sono risultati molto buoni secondo quanto riportato da venza onestini avrebbe fatto degli esami ed avrebbe ricevuto i risultati nel corso delle ultime ore il modello è uno dei concorrenti che ve lo dico a fa più amati odiati della settima edizione reality entrato in corso d'opera del programma è subito legato con la fazione capitanata da oriana marzoli che tutto vero e tutto sa nell'ultima ore sono emerse anche alcune indiscrezioni riguardo al comportamento di luca nei confronti di nikita pelizzone ma non sto qua a ravanarvi la fava perché ne ho parlato in tantissime in tantissimi video la vippona comunque non ha mai nascosto nikita al suo interesse per l'ex tronista di uomini e donne ma le cose tra i due sembrano essersi complicate beh complicate diciamo che è un eufemismo ecco è la notizia dell'eventuale uscita di onestine dal gfv sta facendo il giro del web ovviamente e se confermata rappresenterebbe un colpo duro per tutti i fan del programma soprattutto per tutti i suoi fan tutto quello che resta da fare comunque attendere gli sviluppi della situation e scoprire se luca onestine abbandonerà o meno realmente la casa più spiata d'italia perché vi ricordo che al momento benza dice che deve lasciare perché gli esami non vanno molto bene però magari sicura magari tutto passa non lo so non lo possiamo sapere comunque se volete rimanere aggiornati ovviamente seguite il canale mettete like cliccate condividete e noi ci vediamo al prossimo video ci vediamo ciao vedazzi ciao 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 ciao